Sicuramente sapete che la laurea in ingegneria elettronica è la prima laurea diciamo frente alle discipline dell'informazione che è nata in questo dipartimento ed è nata un numero molto elevato di anni fa. In questi anni l'elettronica si è evoluta, l'elettronica è cresciuta, l'elettronica è diventata pervasiva, come vedrete insieme in questa presentazione. Ci siamo resi conto proprio negli ultimi anni che l'elettronica è in questo momento fondamentale ma probabilmente non c'è abbastanza elettronica al mondo, non ci sono abbastanza ingegneri elettronici. Parto dal caso del chip shortage. Avrete sicuramente provato, ho sentito dire che un anno fa circa era impossibile comprare una PlayStation 5, era impossibile perché non c'era un chip con cui questa PlayStation veniva fabbricata. Questa è stata una complessa situazione di mercato unita alla pandemia, situazione pandemica che ci ha portato in questa situazione. Ma ovviamente la PlayStation è un device non fondamentale probabilmente per le nostre vite e le nostre esistenze ma è un indicatore del fatto che effettivamente c'è stata una grandissima difficoltà a reperire chip raggiungendo addirittura quella che il Guardian ha chiamato un punto di crisi. E portando perfino l'amministratore delegato di Intel a dire che il chip shortage si estenderà e continuerà a durare per alcuni anni. Ovviamente la PlayStation è solo uno degli ambiti nei quali noi pensiamo di utilizzare il chip. Ce ne sono altri. Un altro esempio ovviamente è quello dell'automotive. Sappiamo che dall'anno 2000, 2010, 2020, 2030 ci aspettiamo che ci sia una penetrazione sempre più significativa dell'elettronica all'interno delle auto. E se avete sentito che nel 2035 si prevede di bandire a livello di Unione Europea la vendita di automobili e combustibili fossili, beh questo vi fa capire che le percentuali proiettate di presenza dell'elettronica all'interno dell'auto, che è uno dei settori trainanti dell'economia e quindi che genera poi posti di lavoro, diventerà dominante. Questo unito ad altri settori nei quali sono fondamentali, l'elettronica gioca un ruolo fondamentale. Da quello del computing, vedete qui, dove sono ovviamente necessari i chip, a quello ovviamente dell'automotive che sta crescendo, fino ad arrivare all'elettronica di consumo e ovviamente all'ambito quello delle comunicazioni wireless che sta esplodendo e senza l'elettronica ovviamente non starete in piedi. Allora ci rendiamo conto che questa qui è una situazione di crisi, perché mancano i chip, ma voi sapete che gli ingegneri sono bravi a trasformare le crisi in opportunità. E ovviamente le opportunità sono riconosciute anche a livello internazionale. Abbiamo per la prima volta, almeno negli anni recenti, un presidente americano ha preso in mano un wafer di silicio, si è presentato pubblicamente dicendo che questa è un'infrastruttura strategica che c'è bisogno, a livello degli Stati Uniti intendeva lui ovviamente, di un investimento significativo nei chip per renderci diciamo sempre più, diciamo da un lato indipendenti, dalle crisi, situazioni contingenti, ma dall'altro anche per rendere il nostro contesto industriale sempre più avanzato. E la replica ovviamente europea non si è fatta attendere, l'Unione Europea, guardate questa è una notizia, una press release dell'8 febbraio 2022, quindi molto recente, ha lanciato quello che si chiama European Chips Act, quindi un atto, un provvedimento dell'Unione Europea appunto per riportare l'Unione Europea, che diciamo ha perso un po' negli ultimi anni la sua leadership in ambito elettronico, ad avere un gioco, un ruolo del padrone. Pensate che questo non è stato neanche l'ultimo provvedimento in ambito elettronico preso a livello dell'Unione Europea, perché proprio un mese dopo, l'8 marzo del 2022, ha seguito anche della crisi dei gas, e degli approvvigionamenti energetici dell'ultimo periodo, l'Unione Europea ha lanciato un altro programma, un altro documento che si chiama Repower EU, cioè dai di nuovo potenza energia all'Unione Europea, è un'iniziativa comune dei vari stati per portare a migliore avanzamento sull'energia rinnovabile. E qui ovviamente l'elettronica gioca da padrone, che sia conversione dell'energia in un impianto eolico, che sia la gestione dell'energia in impianti idrogeno, o che sia una pervasiva diffusione degli impianti fotovoltaici. Qui capite che il nostro contesto, il contesto in cui noi viviamo, il contesto in cui voi ragazzi lavorerete, sta crescendo in maniera significativa, sta, diciamo, portando l'elettronica a giocare un ruolo ancora più dominante di quello che già aveva nel passato. Allora, perché a noi piace proporvi una laurea magistrale in ingegneria elettronica? Perché siamo convinti che l'elettronica sia una disciplina fondamentale di interesse? Beh, per natura l'elettronica è tra le discipline dell'informazione, se ci pensate, l'unica che da un lato gioca con le nuove tecnologie, sviluppa nuove tecnologie e quindi di fatto studia gli aspetti che si chiamano hardware. È l'unica tra le discipline dell'informazione che effettivamente realizza sistemi fisici, sistemi fisici che servono poi per tenere in piedi tutte le, diciamo, novità, i nuovi device che vengono sviluppati in ambito in generale dell'informazione. Ma tutto questo in realtà l'elettronica lo bilancia in modo molto, diciamo, accurato con quelle che chiamiamo le conoscenze metodologiche, gli aspetti soft, gli aspetti software se volete, quegli aspetti teorici che permettono di capire da un lato come le nuove tecnologie si sviluppano e dall'altro come utilizzare queste nuove tecnologie nei vari contesti. L'ingegneria elettronica, se volete, è, diciamo, il motore dell'ingegneria dell'informazione, è quello che permette di riuscire a, da un lato, comprendere come funzionano e come sviluppare sistemi fisici, dall'altro come applicarli nei vari ambiti. Questo, diciamo, è una slide che, diciamo, verrà discussa dopo, insomma, ma, diciamo, la laurea in ingegneria elettronica, diciamo, vi permette di essere, se volete, al centro e di giocare un ruolo primario, se volete poi trovare lavoro nell'ambito della disciplina dell'informazione, perché l'ingegneria elettronica può, da un lato, rapportarsi con gli specialisti della sua stessa disciplina, dall'altro, invece, saper interagire con gli specialisti delle altre discipline. Pensate, l'elettronico può studiare, sviluppare, utilizzare sensori, microcontrollori, attuatori per l'automazione, può sviluppare sistemi innovativi per le telecomunicazioni, hardware e periferiche per l'informatica, e, infine, dispositivi biomedicali avanzati. Questo, tutto questo, diciamo, è garantito e, diciamo, diciamo, un'implicazione diretta nel fatto che l'elettronica è dappertutto. Da quando siete nella pancia della mamma e, per la prima volta, fate subito un'ecografia, fino a un esame medico in ospedale, fino all'home automation, la gestione dell'energia, i nuovi dispositivi optoelettronici per, per esempio, le comunicazioni, ma anche il biomedicale e, infine, ovviamente, tutti gli aspetti della multimedialità. Perché mi piace stressare che l'elettronica è dappertutto? Perché se l'elettronica è dappertutto, vuol dire che in ogni industria che sviluppa i prodotti, ci sarà bisogno di un ingegnere elettronico. Queste sono opportunità lavorative incredibili. Ho chiamato questa slide, I want to design a supercar or a satellite or maybe a smartphone, per farvi capire qual è la versatilità degli ingegneri elettronici. Vi faccio vedere alcune esperienze dirette, recenti. Guardate, Angelo, persone vere questa, ha progettato una stampante a 3D che adesso è sulla Stazione Spaziale Internazionale. Adesso progetta satelliti per l'osservazione della Terra. Poi abbiamo, insieme a lui, abbiamo un altro esempio, Nella, che invece progetta circuiti integrati per gli smartphone, anche per gli smartphone più avanzati, in questo caso lavorando a ST Microelectronics. Poi abbiamo, sempre andando avanti nella nostra carrellata, altri esempi di carriere fatte da studenti che hanno lavorato nell'ambito dell'ingegneria elettronica. Valerio è responsabile, per esempio, della divisione qualità di Ferrari a Maranello. Roberto lavora su esperimenti scientifici estremamente avanzati al CERN, quindi in Svizzera. E infine Demetrio è responsabile del laboratorio di strumentazione elettronica a Maserati. Cos'hanno in comune queste persone? Cos'hanno in comune queste carriere che abbiamo visto? Queste persone hanno in comune un master in ingegneria elettronica che le rende perfettamente in grado di lavorare in tutti gli ambiti che vi ho descritto. Le possibilità lavorative sono uno dei vantaggi di una laurea in ingegneria elettronica. Ma ovviamente a noi, che siamo ovviamente docenti universitari, interessano anche le opportunità scientifiche. E l'ingegneria elettronica, se volete, è la disciplina, tra quelle dell'ingegneria dell'informazione, che è più vicina ai premi Nobel. C'è una lunga storia di premi Nobel che sono legati all'elettronica, senza i quali non avremo l'elettronica come la conosciamo adesso. Giusto per darvi una carellata, ve ne faccio vedere alcuni. Partiamo da Albert Einstein, grazie al quale è preso il nome per l'effetto fotoelettrico e quindi grazie al quale è possibile fare visori notturni, ma grazie al quale abbiamo anche scoperto le principali, diciamo, problematiche relative all'interazione tra la luce e il materiale. È stato inventato il transistor ci sono qui tre ricercatori che hanno rivoluzionato il mondo e questo solo è il passato, perché poi già arrivando nel 2000, Kramer e Alferoff hanno vinto il premio Nobel per aver studiato le eterostrutture e i dispositivi alla base dei laser che utilizziamo tuttora per tutta una serie di applicazioni, non da ultime anche le comunicazioni in fibra con cui stiamo probabilmente comunicando. Willard Boyle, premio Nobel del 2009 per aver inventato il sensore CCD, quello che è alla base delle fotocamere digitali che noi teniamo in tasca, che poi si è evoluto, insomma, nelle fotocamere più avanzate che abbiamo. E l'ultimo Nobel legato all'elettronica è stato nel 2014, quello di Hiroshi Amano per le Akasaki e Nakamura per l'invenzione dell'EU, un dispositivo che ha un grande risparmio energetico in una grande varietà di applicazioni. Ovviamente queste sono le scoperte scientifiche del passato e adesso chiaramente voi che state pensando di affrontare un percorso di lauree che porterà poi a costruire una carriera di probabilmente più di 40 anni di lavoro, sarete quelli che ci diranno in un futuro cosa arriva dopo di questo, quali sono le scoperte in questo mondo che è in continua evoluzione. Io vi cito i premi Nobel e voi potreste pensare che i premi Nobel siano persone lontane, che l'Università di Padova sia un ambiente che è completamente sconnesso da quello in cui avvengono rivoluzionari scoperte scientifiche. Bene, questo non è il caso, infatti questo è solo un esempio, vi faccio vedere l'esempio di un seminario che è stato ottenuto proprio da Hiroshi Yamano, uno di questi ricercatori giapponesi che ha preso il premio Nobel per i LED, qui lo vedete nell'aula K, tipicamente lo invitavamo ogni due o tre anni, adesso chiaramente c'è stato il Covid di mezzo, quindi l'ultima volta che è venuto è stato proprio nel 2019 e un altro premio Nobel che è venuto qui a Padova è stato colui che ha preso il premio Nobel per le fibre ottime. Quindi vedete rivoluzioni scientifiche da un lato, ma anche dall'altro la possibilità dei nostri studenti di avere un contatto diretto con persone di tutto rilievo. L'elettronica cerca di affrontare delle sfide globali e quando parlo di sfide globali parlo di energia per esempio che mi state accorgendo è una delle principali sfide che dovremo affrontare nei prossimi anni in un modo nuovo, includendo per esempio energie rinnovabili e con una parola chiave che è quella dell'efficienza energetica. Quindi l'electronics for energy è una delle discipline fondamentali con cui si viene a contatto entrando nella laurea magistrale in ingegneria elettronica. Un'altra problematica, un'altra tematica di grandissimo interesse è quello dei circuiti integrati avanzati. Voi sapete che tutti i dispositivi elettronici che teniamo in mano funzionano grazie alla presenza di circuiti integrati che svolgono funzioni specifiche. Funzioni che sono estremamente complesse da un circuito integrato per esempio che deve funzionare a bassissima potenza per permettervi di dissipare molta poca energia durante il funzionamento e quindi di far durare molto la batteria fino a circuiti che devono invece trasmettere per esempio in 5G a ampissima larghezza di banda e che vengono studiati e sviluppati all'interno dei nostri laboratori. Tecnologie avanzate, tecnologie per esempio per la fotonica, per i LED, per i laser, anche che trovano applicazione per esempio in ambito biomedicale. Questa è una delle tematiche che poi potete affrontare. L'elettronica per lo spazio, un altro ambiente, e per l'avionico, un ambiente estremamente critico nel quale è necessario avere progettisti in gamba che sappiano progettare un'elettronica che sia da un lato affidabile e dall'altro che abbia prestazioni molto avanzate. Sensori e biosensori stanno diventando fondamentali. La recente situazione pandemica ci spiega quanto sia necessario sviluppare sistemi che siano in grado di fornire una risposta quasi immediata su quelle che sono la presenza di contaminanti, agenti, gas o anche per esempio virus. E infine l'ambito dell'automotive, dove energia, sensori e connottività si mescolano insieme in un ambiente estremamente complesso dal punto di vista congettuale. Vi voglio dare qualche veloce panoramica su quelle che sono le tematiche che vi ho citato. Electronics for Energy è una delle tematiche significative che trovate all'interno della nostra laurea e voi vi potrete domandare di cosa si tratta. Beh, se guardate un attimino le cose con occhio critico vi rendete conto che il mondo è costellato da dispositivi che devono da un lato convertire, dall'altro gestire l'energia in ambiti anche molto diversi. Passiamo dall'energy harvesting dove vogliamo raccogliere l'energia ambientale per poter alimentare per esempio dei sensori distribuiti per Internet of Things per esempio ai convertitori per sistemi LED che già gestiscono invece che millivatt watt fino all'elettronica di consumo fino al condizionamento dell'energia in sistemi di produzione di energia rinnovabili dove già stiamo parlando di kilowatt fino a delle smart microgrids quindi delle reti elettriche intelligenti dove sempre kilowatt o gestire o decine di kilowatt devono essere gestite. Bene, questo è un ambito di lavoro che è fondamentale nella quale la conoscenza approfondita dei circuiti elettronici diventa fondamentale. Un altro esempio è quello dell'elettronica per l'energia e le smart grid. Voi sapete che quello dove andremo anche grazie a questi piani di sviluppo per l'energia rinnovabile di cui vi ho parlato prima sarà un ambito in cui le reti elettriche non avranno più un unico generatore e diversi utilizzatori passivi ma sarà una situazione nella quale ogni utilizzatore sarà in realtà anche un produttore di energia quindi avremo tutta una serie di pianti industriali oppure abitazioni private nella quale avremo la possibilità di assorbire energia dalla rete ma anche di generarla grazie per esempio fotovoltaico o di accumularla e questo rende molto complessa la gestione dell'energia a livello di reti nel senso che abbiamo generatori per esempio quelli fotovoltaici che possono produrre corrente in un istante e poi perché arriva una nuvola perché cambia il tempo improvvisamente passare a una produzione quasi nulla e quindi quell'utenza diventa un'utenza passiva beh la gestione dell'energia in questo contesto richiede reti elettriche intelligenti smart grids questo è un ambiente in continua evoluzione in un contesto quello attuale nel quale la rete in questo momento elettrica italiana non è ancora per nulla diciamo in grado di gestire una situazione così complessa l'elettronica per l'energia poi potrà avere diciamo degli ambiti applicativi futuri che vi voglio citare giusto per darvi anche quale potrebbe essere la prospettiva a 3-5 anni potremmo parlare per esempio di ricarica wireless di un veicolo elettrico che in questo momento viene fatta solo con cavi per la quale sono necessari convertitori ad alta efficienza ma anche sistemi in grado di funzionare ad alta frequenza in maniera tale da avere una trasmissione efficace dell'energia senza fili oppure e questa è una prospettiva ancora più in là sapete che diciamo l'ambito aeronautico è un ambito nel quale effettivamente c'è un sviluppo dei combustibili fossili non banale e quindi l'idea di fare degli aerei o interamente elettrici come questo prototipo dell'Airbus che è già stato sviluppato o ibridi come questo concept della Boeing permetterà chiaramente di avere un impatto ambientale significativo e ovviamente richiederà di avere dei generatori di energia quelli che abbiamo in un aero ibrido dell'ordine di potenza dell'ordine del megawatt che quindi saranno effettivamente molto challenging dal punto di vista della gestione e della conversione dell'energia questo per darvi anche uno scenario possibile a futuro per quanto riguarda invece l'ambito dei circuiti integrati beh qui le conoscenze sono veramente molteplici perché si parte dalle caratteristiche dei materiali per arrivare poi allo sviluppo di tecnologie anche molto scalate quindi vedete qui dimensioni dei transistor dell'ordine dei nanometri fino ad arrivare ovviamente lo sviluppo di circuiti che possono essere microprocessori dsp amplificatori filtri convertitori analogico digitale o digitale analogico e radio che poi vengono utilizzati negli ambiti più complessi alcuni esempi che vi voglio dare sono per esempio questo l'esempio di una videocapsula endoscopica sapete che se adesso lo auguro a ciascuno di voi perché insomma anch'io ho fatto una gastroscopia so che può essere un po' fastidiosa se qualcuno di voi dovesse avere problemi allo stomaco o all'intestino una delle tecniche è quella endoscopica quindi inserire un tubo nel tratto digerente per esempio in questo caso andare a fare un'esplorazione fisica con un endoscopio di quelle che sono le caratteristiche dello stomaco o in altro modo dell'intestino bene ci sono dei sistemi che permettono di andare ad accedere quelle parti per esempio di intestino che altrimenti non sarebbero accessibili per via endoscopica si fa questo utilizzando per esempio una videocapsula endoscopica cioè un oggetto a bassissimo consumo di energia che permette di diciamo essere ingerito e percorre tutto il tratto digerente registrando immagini e poi diciamo illuminando ovviamente la porzione di tratto digerente interessata e permettendo poi un'analisi a posteriori del tratto digerente bene tutto questo è possibile grazie alla presenza di dispositivi e circuiti integrati avanzati che da un lato consumano pochissima energia e dall'altro permettono di sviluppare queste applicazioni estremamente fondamentali un altro ambito dove i circuiti integrati sono utilizzati ampiamente e questo magari ne avrete conoscenza è quello dei circuiti integrati per esempio per realizzare i radar anche che trovano in utilizzo anche nell'automotive ci sono dei circuiti integrati che si chiamano phase array che permettono di orientare un fascio di onde radio in maniera opportuna e quindi di poter ricostruire l'ambiente circostante un veicolo e quindi sviluppare dei sistemi di guida assistita anche in futuro pensando alla guida autonoma oppure sempre dei radar possono essere utilizzati per lo screening di particolari malattie vi faccio vedere questo che è una cosa interessante che è stata studiata proprio in questo dipartimento voi pensate che una delle principali cause di mortalità è quella del tumore al seno che tipicamente viene rilevata grazie a un esame radiografico quindi utilizzando raggi X che sono intrinsecamente invasivi dal momento che utilizzano radiazioni ionizzanti che possono alla lunga dare delle conseguenze bene quello che è stato fatto in questo esempio è stato sviluppare un circuito integrato lo vedete qua che permette di fare la stessa analisi del tumore al seno e anche un imaging di un eventuale tumore al seno grazie a un sistema basato su radar quindi su onde radio che non sono invasive non sono ionizzanti e quindi permettono diciamo di avere un impatto molto minore sulla paziente questo è anche un altro tipo di esempio nel quale si vede che l'elettronica e lo sviluppo di un circuito integrato diventa fondamentale per un'applicazione biomedicale un piccolo esempio che diciamo si affianca a quello dei bio devices e i sensori innovativi cos'è un bio device? un bio device è un circuito elettronico che si interfaccia con materiale biologico potrebbe essere utilizzato per il testing del DNA potrebbe essere utilizzato per sviluppare quelle che si chiamano brain computer interfaces cioè interfaccia tra cervello e computer fondamentale soprattutto per aiutare delle persone con particolari disabilità analisi chimiche o identificazione di gas bene questi sono chip avanzati che permetteranno in una visione futura di poter fare tutta una serie di analisi anche in locale senza doverci raccare necessariamente dal medico e poter poi trasmettere i dati di queste analisi opportunamente rilevati grazie per esempio in questo caso a uno smartphone direttamente al nostro medico quindi permetteranno in qualche modo di assistere e seguire eventuali patologie direttamente a casa del paziente migliorando quindi la vita della persona quindi anche quello dell'ambito dell'interazione col medical è un ambito in cui biosensori circuiti integrati permettono e rivoluzionano in qualche modo la vita delle persone c'è poi il discorso della nano elettronica e fotonica la nano elettronica e fotonica è praticamente quelle insieme di discipline che studiano i dispositivi che emettono trasmettono e rilevano la presenza di radiazioni luminose che possono essere utilizzati per esempio in diversi ambiti dall'illuminazione pensiamo i led ai sistemi laser per esempio per automotive fino al biomedicale queste immagini che vedete sono state prese all'interno dei nostri laboratori ed ecco un particolare orgoglio che vi mostro questa immagine che è appena uscita online di una nota ditta italiana che ha appena progettato questi meravigliosi fanali basati su laser per la BMW M4 e vi posso dire che nel team di progettazione che si è occupato di questi sistemi e vicino a quel team lavorano alcuni nostri ex studenti quindi insomma il tipo di competenze che sviluppiamo permette poi anche di arrivare a sviluppare diciamo sistemi avanzati di cui poi si trova riscontro anche nella vita quotidiana con grande eleganza non faccio pubblicità al prodotto ma mi interessa farvi notare il tipo di sistemi complessi che si possono sviluppare altro ambito molto interessante per la lana elettronica e fotonica è quella che si chiama la silicon photonics voi sapete che internet è responsabile del consumo tra il 5 e il 10% dell'energia elettrica mondiale noi usiamo questa energia non per mangiare non per curarci e stare bene ma per essere connessi e sapete benissimo che non vogliamo rinunciare a questa spesa energetica anche se di fatto è una spesa che non è fondamentale per mantenerci in vita e per farci diciamo sopravvivere non lo vogliamo fare perché chiaramente internet è diventata fondamentale per istruirci per essere in contatto con gli altri e anche per aumentare la nostra conoscenza allora la maggior parte di questo consumo energetico di cui internet è responsabile avviene all'interno di data center che sono grandi array di server possiamo immaginarli nei quali le informazioni vengono immagazzinate gestite e scambiate all'interno dei data center le informazioni vengono comunicate da computer a computer in molti casi con cavi di rete che sono ancora basati su connessione elettrica e voi sapete che alzare o abbassare un segnale elettrico comporta un certo dispendio di energia se noi riuscissimo a sostituire tutte le connessioni con connessioni ottiche che già in parte si usano ma a larghissima banda riusciremo chiaramente a migliorare significativamente i reti di trasmissione da un lato ma a ridurre l'impatto energetico di internet dall'altro silicon photonics è quella disciplina che esattamente cerca di studiare il modo di interfacciare delle sorgenti laser avanzate dei rivelatori con circuiti del silicio per arrivare ad avere connessioni che non sono del gigabit per secondo ma del terabit per secondo anche questo è un ambito interessante che rivoluzionerà internet del futuro e vi fa capire come l'elettronica sia necessaria per riuscire a sviluppare poi per esempio le telecomunicazioni del futuro nell'ambito sempre dell'energia ma anche nell'ambito della lana elettronica vi cito poi l'esempio del fotovoltaico adesso c'è grandissima ricerca e si acquisiscono competenze nella nostra laurea sui sistemi fotovoltaici avanzati che non sono più i sistemi rooftop che chiaramente si trovano largo utilizzo ma sono anche quelli che si chiamano building integrated photovoltaics cioè un fotovoltaico integrato negli edifici che quindi richiede chiaramente la presenza di da un lato generatori fotovoltaici dall'altro inverter distribuiti che permettono di utilizzare non solo i tetti ma anche le facciate degli edifici per la produzione aggiungendo anche un certo valore estetico quindi architetturale su questo l'Unione Europea sta investendo tantissimo e di conseguenza ci sono grandi opportunità anche per esempio nell'ambito della ricerca dei substrati trasparenti flessibili per esempio con fattori di forma particolari per il fotovoltaico e qui vedete delle immagini prese all'interno dei nostri laboratori che poi siamo disponibili anche a farvi visitare se volete di misure fatte su dispositivi fotovoltaici puoi vedere che insomma abbiamo strumentazione all'avanguardia voglio citarvi il fatto che studiamo e vi permettiamo anche di studiare elettronica per l'aerospaziale è un altro ambito significativo molto critico perché l'elettronica utilizzata nello spazio o in ambiti critici come quelli artificiali degli acceleratori di particelle o in ambito avionico diciamo è un'elettronica che deve sopravvivere a una grande varietà di radiazioni che possono essere anche ionizzanti e che possono quindi portare a una degradazione significativa dell'elettronica fare un'elettronica che sia affidabile efficiente e che duri significativamente senza garantire fail all'interno di un ambito per esempio aeronautico non è banale queste sono conoscenze che si possono guadagnare nella nostra altri indirizzi e ambiti di interesse che vi voglio segnalare e qui sto andando verso la conclusione sono quello della elettronica di consumo e della domotica l'elettronica di consumo e la domotica stanno diventando soprattutto nell'industria locale che abbiamo anche qua nella nostra regione fondamentali tutti vogliamo avere una casa intelligente citofoni intelligenti sistemi di gestione dell'energia o degli elettrodomestici intelligenti questo diciamo è un ambito di studio che vi proponiamo è anche un ambito applicativo dove notevoli posizioni di lavoro possono essere trovate per passare diciamo da una casa a una smart house quindi una casa che con un solo click diciamo riesce a gestire l'energia la temperatura il riscaldamento e chiaramente anche la sicurezza che è ovviamente un parametro importante un altro ambito significativo è quello della smart industry non ci sarebbe l'industria 4.0 se non ci fosse l'elettronica se non ci fossero microcontrollori attuatori sensori per gestire tutta una serie di sistemi all'interno dell'industria del futuro che è quella nella quale fondamentalmente i processi produttivi vengono automatizzati a un livello per cui anche il tasso di resa delle produzioni diventa elevatissimo e qui vedete alcune immagini evocative di questo infine ovviamente c'è l'ambito dell'automotive sapete che l'ambito dell'automotive è un ambito trainante e lo sarà come vi ho già citato all'inizio della presentazione particolarmente nei prossimi anni anni critici anni nei quali l'industria dovrà da un lato probabilmente purtroppo perdere dei posti di lavoro riguardanti ai tradizionali motori diciamo a combustione motori termici dall'altro però guadagnare molti posti di lavoro per quanto riguarda l'elettronica per automotive la conversione l'immagazzinamento e la gestione dell'energia in auto che saranno a quel punto tali da avere un valore accumulato dell'elettronica quasi pari al 50% delle veiccole questa è una sfida che molti di voi che sceglieranno nella nostra laurea magistrale avranno modo di affrontare grazie appunto a un indirizzo anche dedicato e specifico per questa tematica è stato non da poco abbiamo non da molto diciamo meno di un mese fa abbiamo accompagnato degli studenti a visitare una grossa industria che sviluppa sistemi per automotive e gli studenti che sono tornati si sono rimasti secondo me molto positivamente impressionati da quanta elettronica c'è in un'auto e da quanto opportunità questo questo ovviamente porta se voi guardate gli articoli di giornale qui sono veramente arrivato quasi alla conclusione vedete che una delle categorie delle tipologie di professionisti che mancano in Italia ma anche nel mondo negli Stati Uniti ci sono statistiche simili è quella degli ingegneri elettronici ci sono notizie e articoli di giornale dal sole 24 ore al corriere della sera guardate questi qua sono anche molto recenti primo febbraio 2022 quest'altro 24 febbraio 2022 le industrie non trovano ingegneri elettronici come vedete e quindi di fatto c'è siamo nella situazione nella quale i nostri laureati riescono a trovare lavoro ancora prima di essersi laureati c'è una grande possibilità di stage e tiraccini in azienda con cui diciamo le realtà industriali possono cominciare a conoscervi e voi potete cominciare diciamo a farvi conoscere in vista di una futura assunzione e grandi grandi possibilità occupazionali negli ambiti che vi ho citato appunto perché è uno dei titoli di studio più richiesti e anche meno inflazionati e questo è un vantaggio un'ultima cosa che vi voglio dire e questo è un bellissimo segno da parte di un'industria che è una multinazionale ma che ha una sede locale è questa borsa di studio questo premio di studio che è finanziato da Infineon ogni anno di recente insomma Infineon Technologies che ha una sede qui proprio a Padova però sapete voi che è una multinazionale con sede in realtà a Monaco e ha deciso di finanziare quello che si chiama un premio Infineon Ingegneria Elettronica in memoria di Alessia Lovato Alessia Lovato è stata una nostra studentessa in passato poi è stata una bravissima dipendente di Infineon Technology e ha voluto dedicare Infineon a lei alla sua memoria questo premio di studio che è per studentesse e studenti di cittadinanza italiana e straniera che abbiano effettuato la pre-immatricolazione al corso di laurea magistrale in Ingegneria Elettronica presso la nostra università sono due premi di studio che ci sono uno per una studentessa e uno per uno studente di 5.000 euro ciascuno per gli studenti più meritevoli ci sarà la scadenza la scadenza se non mi ricordo male per presentare domanda è l'1 o il 2 novembre quindi avrete tempo di fare domanda ed è un'occasione unica per da un lato trovare un supporto per le vostre attività di studio ma dall'altro anche avere la possibilità di conoscere subito un'industria locale che come vedete non esita a mettere anche un finanziamento per degli studenti meritevoli che vogliono fondare la loro futura carriera nell'ambito dell'elettronica quindi che in questo ambito decidano di orientare i loro studi quindi tenete a mente anche questo il bando non è ancora a brevissimo perché abbiamo valiato e validato la bolsa proprio durante questa settimana troverete poi la possibilità di partecipare a questo bando di borsa di studio infine un'ultima cosa è questa come la mettiamo con il gender gap per gli elettronici per gli ingegneri elettronici sapete che uno dei nostri punti dolenti per l'ingegneria è il fatto che ci sono molti più studenti che studentesse e questa è una cosa che noi come docenti stiamo cercando di modificare anno dopo anno di impattare non è vero in nessun modo lo diciamo già ai ragazzi e le ragazze che si iscrivono delle scuole superiori il primo anno all'università che l'ingegneria è una disciplina maschile infatti il numero di studenti di ragazze studentesse sta gradualmente crescendo e c'è una buona gender parity quando parlo di gender parity intendo in ambito professionale per esempio se noi consideriamo lo salario iniziale come indicatore qui la SIE che è la società italiana di elettronica ha elaborato i dati di Alma Laure vedete che praticamente quello è identico tra i nuovi ingegneri che siano maschi o femmine e questo è un risultato molto positivo considerato che nelle altre discipline ci può essere anche un salary gap quindi una differenza salariale di 300 euro tra maschi e femmine un esempio di come di una persona una scienziata un'ingegnera donna che può che ricopre un incarico di estremo alto livello è quello di Claudia Sterlini che è la direttrice dei siti di Agrate Brianze e Castelletto di ST Microelectronica la più grande multinazionale di elettronica che abbiamo qua in Italia e quindi giusto per darvi un'idea del fatto che insomma è un ambiente che chiaramente le ragazze studentesse stanno cominciando negli ultimi 10-15 anni a diciamo a penetrare in modo significativo ma vediamo i numeri che crescono e siamo molto confidenti che questi numeri possano crescere in maniera significativa e la cosa molto bella è che non c'è nessuna differenza salariale tra maschi e femmine a differenza di molti altri ambiti professionali allora in conclusione adesso dopo questi 35 minuti voglio dire che l'elettronica come avete visto da un lato affronta sfide globali parlo di energia parlo di sostenibilità parlo di connettività interfacce sensori e anche life and health quindi quello che sono tutte le sfide connesse all'ambito biomedicale l'elettronica crea innovazione vi ho fatto l'esempio dei premi Nobel ma lo vedete anche voi anno dopo anno quanto avanzano queste discipline ci sono più posti di lavoro che ingegneri anche questo è un ambito in cui su cui vi consiglio di riflettere dove volete essere fra due anni fra cinque anni fra dieci anni è un ambito nel quale c'è bisogno da parte dell'industria locale e da parte dell'industria internazionale infine l'elettronico ha per natura e lo vedrete anche adesso dai insomma dai piani di studio che vi presenterà il professor Spiazzi l'elettronica per natura multidisciplinare quindi se voi siete in grado di farvi delle buone conoscenze in ambito hardware che sono quelle specifiche dell'elettronica questo lo farete poi nel primo anno con il secondo anno di studi potete veramente decidere dove spaziare quindi eventualmente su quale delle altre discipline dell'informazione volete affacciarvi per costruire la vostra carriera professionale ecco con questo quindi io vorrei concludere questa presentazione chiaramente trovate molte informazioni sulla pagina dell'Ateneo didattica .nipd.it e su laurea .dai .nipd.it ma questi contatti già li conoscete bene e quindi a questo punto vi ringrazio per l'attenzione ovviamente sono disponibile nel caso abbiate domande grazie Matteo veramente è una presentazione entusiasmante diciamo così traspare diciamo il piacere di lavorare in questo settore da quello che dici io direi che forse conviene completare la presentazione con la struttura del corso di laurea e poi lasciamo aperte a tutte le domande degli studenti cosa dici? concordo con te concordo con te direi di fare così ok mi lasci lo schermo sì un attimo solo stop share eccolo qua grazie share screen perfetto faccio partire la presentazione molto bene questa parte riguarda come vi avevo anticipato la struttura del corso di laurea magistrale in elettronica e engineering allora come tutti i corsi laurea magistrale la struttura è in qualche modo imposta da regole ministeriali e nel nostro caso come vedete è è formata da un grosso una parte principale di corsi e di insegnamenti nel settore elettronico con un numero di crediti minimo e massimo le cosiddette forchette come le chiamiamo noi e si deve soddisfare questo intervallo di crediti minimo e massimo di insegnamenti in questi settori dopodiché il corso di laurea è arricchito dalla presenza di insegnamenti presi vedete da discipline correlate dell'information and communication technologies telecomunicazione automatica computer science bioingegneria scienza di materiale elettrotecnica azionamenti anche gestionale però per poi andare verso materie di base chimica fisica sperimentale della materia e infine per questo abbiamo diciamo un range di crediti da 12 a 24 infine abbiamo un pacchetto di corsi a libera scelta con un range di crediti da 9 a 15 come già aveva accennato Matteo il corso di laurea si completa con 30 crediti che sono suddivisi in 21 crediti per il progetto finale di tesi e 9 crediti di cosiddette tirocinio tirocinio che può essere svolto sia al di fuori dell'università di Padua quindi in aziende o in centri di ricerca al di fuori dell'università oppure può essere svolto nei laboratori all'interno dell'università di Padua e anche all'interno del nostro dipartimento in cui c'è l'opportunità finalmente di mettere a frutto le conoscenze che vengono acquisite nei primi tre semestri del bienio della laurea magistrale qual è l'obiettivo del corso l'obiettivo del corso come vedete è quello di creare delle figure professionali che siano in grado di partecipare a questo processo di innovazione tecnologica che sta crescendo a vista d'occhio nel settore elettronico perché il settore elettronico ormai sta entrando ed è entrata a pieno titolo come disciplina viene chiamata enabling che permette lo sviluppo di altre discipline correlate l'ingegnere elettronico deve allo stesso tempo essere capace di adattarsi facilmente al rapido sviluppo di questa disciplina perché come vedete la rapidità con cui si è passati da da tecnologie che adesso consideriamo obsolete alle tecnologie moderne ormai questi tempi si misurano in pochi anni ma anche addirittura mesi e l'ingegnere allo stesso tempo deve essere capace di interagire con colleghi specializzati in settori di discipline diverse dell'elettronica ma sono discipline in cui di fatto l'elettronica rappresenta la tecnologia abilitante quindi sono discipline corrispondenti all'area di applicazione dell'elettronica ecco per far questo diciamo dobbiamo creare delle solide basi di conoscenza e questo viene fatto essenzialmente al primo anno della laura magistrale attraverso questo gruppo di insegnamenti che sono obbligatori per il corso di laurea magistrale in elettronica e ingegneria questo gruppo di insegnamenti vanno a completare e ad arricchire le conoscenze che voi che parte di voi chi ha fatto diciamo la laurea triennale in ingegneria elettronica ha già in parte visto ma in questi corsi queste conoscenze vengono ulteriormente approfondite per raggiungere quel livello di preparazione di base che vi permetta di affrontare problemi nuovi perché questo deve fare un ingegnere alla fine deve poter risolvere dei problemi se il problema ha già una soluzione l'ingegnere non serve basta scrivere un programmino al computer e quel problema viene automaticamente e sistematicamente risolto ok il problema è risolvere problemi nuovi per poter risolvere dei problemi nuovi bisogna avere delle basi sufficientemente solide per sviluppare nuove idee per applicare nuovi approcci per la soluzione di questi problemi sappiate che forse ve ne siete reso conto il mondo sta diventando veramente molto complicato la tecnologia è avanzata moltissimo ed è molto complicata quindi nessun corso di laurea magistrale vi può dare conoscenze su tutto però il nostro obiettivo come gli obiettivi ovviamente degli altri corsi di laurea magistrale al day è quello di preparare il più possibile delle persone capaci di affrontare queste nuove sfide ed eventualmente continuare nella fase di autoapprendimento si parla di lifelong learning nella fase di apprendimento e l'Europa sta molto spingendo su questo su questo aspetto appunto perché dicevo non è possibile acquisire tutte le conoscenze necessarie spesso per il mondo del lavoro in un corso di laurea in questo caso magistrale che diciamo dura un tempo limitato di due anni però se uno ha le base giuste uno è in grado poi di colmare le lacune che eventualmente ha in modo autonomo e quindi essere capaci di affrontare le sfide che viene che poi trova nel mondo del lavoro qui il corso di laurea poi è strutturato come vedete in una serie di indirizzi indirizzi che di fatto individuano degli esami che si aggiungono ai sei esami obbligatori del primo anno e che vanno a completare la preparazione però la vanno a completarla in modo più o meno polarizzato verso discipline o campi applicativi differenti abbiamo visto nella presentazione di Matteo come in realtà questi campi negativi applicativi siano tantissimi e continuano ad aumentare giorno per giorno da qui abbiamo individuato sei macro settori di interesse uno è la nano elettronica e la fotonica avete visto ad esempio delle comunicazioni in fibra ottica per i data center per esempio un altro è l'elettronica per l'energia la conversione dell'energia e la sua elaborazione e il suo trasporto è un aspetto fondamentale come citava già Matteo i data center sono degli oggetti che consumano una quantità di energia pazzesca ma non solo loro e quindi c'è bisogno di studiare sistemi per una conversione efficiente in energia abbiamo un settore in circuiti integrati questo ad ampio spettro che è di fatto l'ossatura portante di qualsiasi apparecchiatura hardware e elettronica abbiamo poi il settore biomedicale e healthcare della salute anche qui con insegnamenti che spazzano un po' tra l'elettronica e le applicazioni dell'elettronica nel settore biomedicale infine abbiamo due altri indirizzi uno più incentrato sull'elettronica di consumo e la domotica ci rendiamo conto di quanta elettronica ormai abbiamo anche noi dentro casa nostra e un altro è l'elettronica per l'industria e l'automotica vediamo un po' nel dettaglio questi indirizzi osservando però che come abbiamo visto abbiamo un primo anno che è concentrato su corsi fondamentali e obbligatori e la selezione degli altri corsi quindi avviene essenzialmente nel secondo anno ma anche sono corsi che sono offerti per esempio da altre lauree magistrali e che quindi possono essere offerti in quelle lauree magistrali anche al primo anno e quindi li possiamo prendere liberamente per costruire il nostro pacchetto di 120 crediti di cui abbiamo bisogno per laurearci in in ingegneria in electronic engineering infine dicevamo il progetto finale che qui ho racchiuso ho messo assieme tesi e tirocino per un pacchetto completo di 30 crediti qui vi ho riportato come riferimento alcuni indirizzi web che probabilmente già conoscete molto bene dove trovate tutte le informazioni necessarie e vado a spiegarvi un po' più in dettaglio i contenuti dei vari indirizzi che di fatto definiscono dei piani ad approvazione automatica ok l'indirizzo per esempio nanoelectronics e infotonics vedete aggiunge ai corsi obbligatori l'indirizzo di l'insegnamento di opto elettronica e dispositivi fotovoltaici e poi vi dà una scelta di un totale 30 crediti minimo tra pacchetti di corsi di insegnamenti che qui sono divisi semplicemente per il fatto che il primo pacchetto intermedio rappresenta dei corsi caratterizzanti per il corso di laurea in elettronica mentre il secondo include quelli che vengono chiamati insegnamenti affini quindi insegnamenti di settori disciplinari affini all'elettronica in modo analogo l'indirizzo elettronica per l'energia aggiunge un paio di esami di power electronics e smart grid in particolare power electronics design che si aggiunge al power electronics che è fondamentale un corso tra quelli fondamentali e vi permette di scegliere dei corsi tra un gruppo di tre insegnamenti ancora una volta caratterizzanti ed altri di tipo di tipo affine l'indirizzo invece di circuiti integrati come vedete contempla l'aggiunta di due corsi obbligatori che sono collocati in questo caso nel secondo anno primo semestre relativi al progetto di circuiti integrati uno è integrated circuit for signal processing e l'altro è radio frequency integrated circuit design e poi come avete mai imparato a capire degli insegnamenti a scelta tra due gruppi di insegnamenti caratterizzanti e insegnamenti di tipo affine l'indirizzo biomedicale come vedete anche questo include un corso fondamentale obbligatorio che è integrated circuits for signal processing e include un minimo di 30 crediti presi tra gruppi vedete di insegnamenti che includono anche parecchi insegnamenti offerti alla laurea magistrale in biomedica come vedete biofotonics bioinformatics biomedical wearable technologies for health care and well being machine learning for bioengineering control of biological systems imaging for neuroscience sono tutti i corsi che sono mutuati dal corso di laurea magistrale in biomedica andiamo all'indirizzo consumer electronics and domotics questo include due insegnamenti obbligatori oltre ai sei previsti del primo anno che sono ancora una volta integrated circuits for signal processing e automotive and domotics e poi come vedete sempre insegnamenti a scelta con differenti forchette di crediti tra gruppi di insegnamenti caratterizzanti o affine anche qui in qualche modo mutuati da corsi di laurea magistrale per esempio in ICT o altri infine abbiamo l'indirizzo smart industry and automotive che contempla un insegnamento obbligatorio al secondo anno di opto electronic and photovoltaic devices e poi ancora una volta un pacchetto di 30 crediti in minimo a scegliere tra gruppi di esami con scelta in questo caso abbastanza più ampia che pesca pesantemente nelle lauree magistrali di discipline correlate con la rata con l'elettronica ecco terminerei questa presentazione con delle statistiche la sorgente è Alma Laurea sono statistiche scaricate proprio recentemente quest'anno ve le lascio qui anche perché questa presentazione come quella precedente verrà resa disponibile così come anche la registrazione di questa presentazione verrà resa disponibile a tutti quanti solo per farvi vedere come l'area magistrale in elettronica che è la penultima la penultima barra in questi grafici tutto sommato ha delle performance molto interessanti soprattutto in termini vedete stipendiali vedete la curva rossa centrale ma anche come indicazione del fatto che tutto sommato gli studenti che l'hanno seguita sono stati molto contenti nel senso che una buona percentuale di studenti grano seguita si riscriverebbero a questa laurea magistrale bene io vi ringrazio tutti quanti per la vostra pazienza abbiamo leggermente sforato diciamo il tempo che ci avevamo dati per questa presentazione però siamo a disposizione per rispondere a qualsiasi domanda e curiosità è presente con noi anche il dottor Zoltan della segreteria che quindi può rispondere anche a domande specifiche o particolari per quanto riguarda gli aspetti amministrativi io vi lascio la parola avete se volete il microfono avete la chat come preferite siamo a vostra disposizione qualcuno che vuole rompere il ghiaccio se volete se volete tra virgolette lo rompo io ma solamente per condividere ovviamente queste sono presentazioni che si tengono per i vari corsi di laurea in questi giorni probabilmente alcuni studenti hanno partecipato anche ad altri mi ricordo che a quella di ICT avevo condiviso posso condividere con voi solo a titolo informativo e farvi vedere il sito dove si presenta la domanda per immatricolarsi alla magistrale di ingegneria elettronica quindi non so se posso sì ecco posso condividere lo schermo e vi mostro semplicemente se voi ovviamente cercate su google avvisi ammissione unipid probabilmente voi che vi siete immatricolati alla triennale sapete già dove andare andate qui dopodiché seguite praticamente da qui anziché lauree triennali lauree magistrali finite su questa pagina trovate vari avvisi ovviamente attenzione a guardare al 22-23 andate sull'avviso di ammissione per ingegneria qui trovate sia in italiano che in inglese apro quello in inglese solo diciamo così visto che anche le slide tutte erano in inglese la stessa versione chiaramente questo è il regolamento che vale per chi si vuole immatricolare con un titolo di studio italiano voi siete presumo quasi tutti qui dell'Ateneo quindi in questo senso qui voi trovate le istruzioni per tutti i corsi laurea delle magistrali diciamo così della scuola di ingegneria quindi non solo quelle del DEI perché sono tutte senza limiti di posti di accesso quindi diversamente rispetto alla vostra triennale qui dentro trovate tantissime informazioni e principalmente ci possiamo focalizzare sul fatto che è prevista una fase di cosiddetta registrazione sul portale Uniweb ma voi sarete già registrati quindi dal portale di Uniweb voi potrete procedere con la pre-immatricolazione ecco e successivamente come funziona dovrete diciamo così principalmente presentare in questo ambito ovviamente una domanda di valutazione dei crediti minimi di accesso ok dei requisiti minimi di accesso chiedo scusa dove si trovano questi requisiti minimi di accesso si trovano nelle schede finali ok quindi se voi andate in fondo in fondo dovreste trovare Electronic Engineering vediamo se lo troviamo lo troviamo qui e qui voi trovate i requisiti di accesso che sono ovviamente quelli classici ecco dopodiché saltornando indietro un po' alle scadenze avete due finestre per immatricolarvi e sono indicate praticamente qui cioè per chi si laura entro il 21 di ottobre le finestre per presentare domanda e immatricolarvi vanno dal 18 di luglio quindi dal mese prossimo fino al 30 di settembre come funziona? ci si pre-immatricola si presenta la domanda di valutazione di requisiti di accesso quindi una volta che vi sarete laureati non dopo quindi aspettate di laurearvi presentate la domanda di requisito di accesso la commissione di valutazione del vostro corso di laurea rilascia una delibera di ammissione o meno ma se avete i requisiti ovviamente ovviamente vi si ammette e poi dopodiché perfezionate la vostra immatricolazione come alla triennale con il pagamento della prima rata questo funziona per chi si laurea diciamo così entro il 21 di ottobre dopodiché esiste una seconda finestra diciamo così più avanti mi pare che sia indicata ecco per chi si laurea diciamo così più avanti cioè entro quest'anno può presentare domanda dal 28 di ottobre fino al 31 di gennaio una volta la si chiamava iscrizione durante il percorso non la chiamano più così perché è diversa quindi per chi si laurea per esempio nella seconda sessione cioè in quella invernale diciamo così allora avrete la possibilità una volta che vi sarete laureati a novembre o quello che sarà di fare una nuova domanda cioè di fare la domanda in questa in questa fascia ecco questo solo a scopo informativo è giusto per ricordarvi questi aspetti grazie Zoltan niente io ho visto un paio di domande nella chat una che riguarda che parla che chiede diciamo sul quanto vincolanti siano questi indirizzi proposti gli indirizzi proposti in realtà ripeto configurano alla fine dei piani di studio ad approvazione automatica però come avete visto ci sono i vincoli ministeriali sono diciamo più ampi nel senso che è possibile chiaramente introdurre nel piano di studi corsi a scelta presi da tutto l'Ateneo di fatto purché ovviamente di argomenti che siano di interesse o considerati diciamo di interesse per la preparazione nella laurea magistrale in elettronica engineering questi semplicemente definiscono piani di studi che vengono poi valutati da una commissione che ripeto se i corsi scelti sono diciamo sono congruenti con gli obiettivi del corso di laurea vengono semplicemente approvati ok quindi non è un problema se uno piace diciamo parte con un percorso e poi vuole diciamo pescare esami da altri indirizzi o vuole pescare esami ripeto perché voi potete come esami liberi prendere insegnamenti che non erano presenti nelle liste che vi ho portato relative a questi indirizzi d'accordo purché siano insegnamenti ripeto che siano congruenti con gli obiettivi formativi del corso di laurea in elettronica e ingegneria e questo viene valutato da una commissione apposta la seconda domanda riguarda le possibilità di Erasmus e chiaramente come tutte le altre anche lauree magistrali anche i nostri docenti di elettronica gestiscono dei dei flussi Erasmus verso università europee qui abbiamo con noi per esempio Matteo Meneghini che mi pare gestisca un flusso verso Ghent se non sbaglio e quindi senz'altro abbiamo possibilità per gli studenti della laurea magistrale di engineering di passare tipicamente un semestre all'estero fare tipicamente un pacchetto che possa andare dai 25 a 30 crediti all'estero e queste presentazioni però per quanto riguarda i flussi Erasmus sono poi oggetto di presentazioni dedicate a cominciare dall'autunno quindi già dal primo anno della laurea magistrale verranno proposte delle presentazioni per illustrare tutti questi questi flussi Erasmus possibili va detto che trovate se volete se siete già interessati a esplorare queste possibilità trovate per esempio le presentazioni da qualche parte e credo che Zoltan possa eventualmente dirvi dove trovarli le presentazioni fatte l'anno precedente su i flussi Erasmus quindi eventualmente potete dare un'occhiata al massimo trovate delle informazioni aggiuntive nelle presentazioni che verranno fatte a novembre se nell'eventualità in cui vengono aperti nuovi flussi Erasmus sì si trovate per esempio vi sto condividendo il collegamento al nostro al nostro e-learning e chiaramente oltre al flusso del professor Meneghini che non so se sia solo quello per Ghent il professor Meneghini mi pare che segue anche qualche altro flusso non mi ricordo più però poi ci sono parecchie possibilità che stiamo anche ampliando nel frattempo giusto? Sì andrebbe anche aggiunto che non c'è solo Erasmus ma ci sono anche per esempio c'è anche Ulisse che è un programma di mobilità extra e quindi anche questa dà delle possibilità in più quindi per esempio io sono responsabile di un flusso con il Giappone che ogni anno dà addirittura la possibilità di mandare quattro studenti adesso ovviamente il Giappone quest'anno è stato fermo ma adesso nell'anno prossimo ritornerà perché si considera che anche in Asia che sono molto più conservativi gli effetti della pandemia si faranno sentire meno e quindi di fatto voi seguite guardate vedrete che opportunità di internazionalizzazione crescono anno dopo anno ne stiamo creando sempre di più anche perché è un corso di lavoro in crescita quindi ci aspettiamo anche una presenza internazionale più massiccia chiaramente dall'anno prossimo e quindi sono opportunità che stiamo creando grazie Matteo prego se avete qualche domanda curiosità fatela pure non abbiate timore se avete curiosità qualcosa che abbiamo detto non è chiara chiedete pure va bene se non ci sono quindi altre domande io vi ringrazio per aver partecipato a questa a questa presentazione che ripeto troverete di cui troverete la registrazione nel sito che vi ha indicato il dottor Zoltan e vi aspettiamo tutti a ottobre nel nostro corso di laurea in Electronic Engineering grazie ancora e buona giornata e buon fine settimana a tutti arrivederci a tutti grazie a tutti arrivederci grazie Zoltan grazie a voi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti